Trattamento per il gomito del tendista, detta anche epicondilite, dal secondo la medicina tradizionale cinese. Andiamo a trattare tre punti lungo il canale di grosso intestino che si trova sul lato del radio. Il primo punto è il grosso intestino 11 che lo troviamo direttamente piegando il gomito, proprio sulla piega del gomito, poi un pollice sotto abbiamo il grosso intestino 10 e un pollice sopra abbiamo un grosso intestino 12. Quindi andiamo a mettere le coppette su questi tre punti. Un altro punto da trattare è il triplice riscaldatore 5 che si trova a due cun, quindi tre dita, sopra la piega del polso, proprio nella linea centrale. Andiamo a rimuoverle dopo 15-20 minuti. Praticchiamo un leggero massaggio sulla zona. A presto, sotto si volete.